Ciao a tutti, io sono Francesca, oggi video spesa a Conad. Allora, oggi è il 4 di aprile e ho speso 37,46 euro, ho preso un bel po' di cose. Allora, ho preso i galletti della Molino Bianco, ecco, è mia figlia che non vuole mangiare, e poi ho preso, sempre della Molino Bianco e Nascondini, perché se si prendevano due cose della Molino Bianco, c'era in regalo il bicchiere, e quindi, vabbè, comunque. Allora, le cose della Molino Bianco le ho pagate, allora, i Nascondini 2,37 euro. Mentre i galletti 3,29 euro, ok, vabbè, ho preso anche due pacchi di fruttolo, quelli lì da 6 per 50 grammi, ma sono già finiti in frigorifero, pagati 1,19 euro, non mi ricordo. Poi, da mangiare stasera, mi sono presa i fagiolini, scusate, questi qua ci sono le chiavi, questi qui, mentre pronti, praticamente, sono già sbucciati, ne ho presi due, e 2,58 euro a scatolino, vabbè, costano però, questi arrivano già spuntati, non ho sbucciati. Poi, ho preso 3 di questi insalati qua, uno da portarmi da domani al lavoro, uno da portarmi da lunedì, e uno da mangiare in viaggio. Pagate 2,98 euro ciascuna, no, sì, 2,98 euro. Poi, ho preso, che era un riscontro, e se ero in macchina ne prendevo di più, però, lo pedi. Alpro, cocco, pagato 1 euro e 88, mi sembra, adesso non mi ricordo. drink, riso e cocco, 2,07 euro, meno 13 centesimi, quindi 1,94 euro. Mentre l'altro, alla soia, normale, questa, per intenderci, l'ho pagato 1,87 euro, pochissimo per essere quello dell'altro. Poi, da assaggiare ho preso mini cake, questa qua, l'originale, tortina con cacao e avena, ovviamente questa qui è la variante vegana, quindi non c'è il latte normale, ma c'è quello di cocco e avena. Poi, per provare qualcosa di dolce, senza quanti intuteri, ho preso questo qui della valsoia. Allora, vi faccio, vi dico i prezzi della, allora, grand dessert, questo qui, 1,95 euro, poi, grand dessert, scusatemi, poi cake, che ho chene, 2,99 euro, la regione arriverà, la riprovarista, ve l'ho detto, ok, bene, poi, ah, qua c'è un altro fruttolo che è rimasto fuori dalla, ne ho presi due, quindi forse ne ha messo via solo uno, il mio compagno. Poi, voglio provare a fare la carbonara vegetale, quindi ho preso, questi qua, il mio compagno mi sta guardando male, ma molto male, pancetta affumicata vegetale, 3,95 euro, molto, vabbè, e poi ho preso l'uovo vegano, che questo qui l'ho visto in un video, della Varsoia, 2,99 euro, e vabbè, ha poche calorie per fortuna, quindi, probabilmente mi piace anche solo per quello, vabbè, adesso, io, mi preparo i fagiolini, vi saluto, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao!